Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del nostro telegiornale oggi è dedicata all'avvertenza Gela. Oggi incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per definire il protocollo d'intesa firmato il 6 novembre del 2014. Si chiede l'avvio dei cantieri, i lavoratori gelesi attendono con il fiato sospeso. Ci colleghiamo adesso con il nostro inviato a Roma, Giuseppe Donchia, per gli ultimi aggiornamenti. Vediamo. Già lo vediamo dalle immagini, siamo dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico dove oggi si decide il futuro di Gela in merito alla vicenda Eni che tiene banco dal 6 novembre del 2014 perché è stato firmato un protocollo d'intesa però attualmente i cantieri non sono partiti e giustamente gli operai dell'indotto e anche quelli del diretto protestano e oggi fanno sentire la propria voce agli responsabili del di Castero. Numerosi i gelesi che sono giunti a Roma nella capitale dopo un viaggio estenuante in Pullman. Noi siamo con alcuni di loro, è chiaro che la protesta da Gela si sposta a Roma, però oggi voi da Roma volete delle conferme, delle certezze immediate. Noi vogliamo, chiediamo soprattutto il lavoro perché basta con queste forme di assistenza, cassa integrazione, perché questi qua non porteranno a nessuna strada. Se hanno deciso di chiudere la refineria parlino chiaro, non che fanno, tirano da una parte o dall'altra e le uniche persone che soffrono sono le famiglie. Tanto il greggio o loro affinano a Gela o loro affinano a un'altra parte, ormai quello che hanno fatto l'hanno deciso loro. Non fanno lavori da tre anni, non fanno bonifica, hanno fatto soltanto delle pulizie su dei reparti, hanno chiuso tutto, tutti i reparti non hanno fatto nessun lavoro. Tutte le ditte, siamo esasperate le ditte degli operai. E' una situazione di emergenza, l'abbiamo riveduto più volte e voi chiedete come sottolinevamo oggi delle risposte. Le risposte per il presente occupazionale dei lavoratori, ma soprattutto per il futuro, soprattutto per i vostri figli. Soprattutto per i nostri figli. Oggi speriamo di concludere veramente. Questo è il secondo viaggio che faccio a Roma, in brevissimo tempo. Possiamo continuare, posso continuare anche con i miei amici, però spero che oggi si concluda veramente. Usciamo con qualcosa di positivo. E ripeto, non costiamo ammortizzatori sociali, non vanno bene. Noi cerchiamo il nostro diritto, il lavoro. Le proteste sono state tante a Gela, blocchi, presidi. Oggi invece, come sottolinevamo dal Ministero, dai responsabili del Dichestero dello sviluppo economico, volete soltanto una parola. Lavoro per i Gelesi. Solo lavoro, perché noi siamo operai e viviamo di lavoro. Le nostre famiglie vivono del nostro lavoro. Quando noi non lavoriamo soffrono e basta, perché non c'è niente da spendere per i nostri figli, per mandarli a scuola, per dargli indumenti puliti e decenti, come fanno tutti gli operai che lavorano. Dunque, alle 15 comincerà la riunione al Ministero dello sviluppo economico. Vi trarremo aggiornati sugli sviluppi che ci auguriamo siano positivi. Hanno raggiunto la capitale anche i segretari confederali delle varie organizzazioni sindacali. Ne abbiamo già uno. È Franco Iudici della Filca CISL. Ti chiedo subito, Franco, oggi si aspetta soltanto una parola importante da parte di chi governa. Sì, noi siamo qua proprio per ribadire con forza. Ebbene hanno fatto i lavoratori ad essere presenti anche con le famiglie. Questo lo dimostra abbastanza chiaro la situazione di disperazione che noi abbiamo nei nostri territori. Oggi noi ci aspettiamo un bassavanti rispetto al protocollo fatto a novembre del 2014. Noi ci aspettiamo che il Governo nazionale e il Governo regionale che oggi saranno presenti, assieme all'Ene, dicono una volta per tutte e fanno chiarezza sulla questione delle autorizzazioni perché volere potere, secondo me Eni ci continua a scherzare su questo. Eni oggi deve fare un'operazione verità e per dare una boccata d'ossigeno ai lavoratori, al territorio, deve iniziare tutti quegli investimenti che oggi sono candidabili. Poi tutte le altre cose che sono in programma, giustamente, siccome l'accordo è stato fatto, noi pretendiamo che l'accordo venga rispettato. Anche le donne all'asseguito dei propri mariti, dei propri lavoratori ed è chiaro che non lavorando un marito non arrivano soldi a casa e la situazione si fa difficile. Io sono qui anche come membro di un'associazione di volontariato e rappresento comunque altre associazioni di volontariato e quindi saremo noi tutti insieme sempre dalla parte dei lavoratori e lotteremo affinché Gela diventi una città vivibile e il lavoro non manchi per nessuno. Bisogna sottolineare pure che c'è stato l'impegno da parte dell'amministrazione comunale anche dal governo regionale per sbloccare definitivamente quella che è divenuta, l'abbiamo ripetuto in più di un'occasione, una vera e propria emergenza occupazionale. Sì, abbiamo avuto i consiglieri comunali al nostro fianco, quindi stanno lottando insieme a noi. Speriamo che arrivano buone notizie oggi dal Ministero. Speriamo tutti siamo qua. E allora, adesso noi ridiamo la linea al telegiornale e ci risentiremo nel corso delle prossime edizioni per aggiornarvi sull'esito, ci auguriamo positivo, dell'incontro che si tiene nel primo pomeriggio di oggi al Ministero dello Sviluppo Economico. Sarà presente il governo regionale, dunque il Presidente Rosario Crocetta, sarà presente l'amministrazione comunale con in testa il Sindaco Domenico Messinese, ci sono alcuni assessori, anche i consiglieri comunali, ci sono i lavoratori soprattutto che chiedono certezze per il presente, per il futuro di una intera città. Dunque ridiamo la linea alla collega Fabiola Polara, ci risentiremo nelle prossime edizioni. Grazie al nostro direttore Giuseppe Donchia che in questo momento si trova a Roma e che ci aggiornerà sulle ultime novità nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Intanto i consiglieri comunali di Reset 4.0, Luigi Didio e Francesca Caruso, scrivono al Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, al Sindaco di Gera Domenico Messinese e al Vice Sindaco Simone Siciliano, chiedendo confermezza che alla riunione prevista per oggi a Roma al Mise prendano con autorevolezza, leggiamo nel documento inviato alla nostra redazione, battendo i pugni che il Mise prenda conoscenza dello stato di crisi in cui Gelaverte e del fatto che il protocollo di intesa non ha portato gli effetti sperati che impegnino lo stesso Mise a determinare immediatamente la linea strategica di sviluppo del territorio e accelerare sugli iter autorizzativi per far partire nell'immediato quanti più cantieri possibili, che il Ministero e l'Eni dotino il territorio di strutture e infrastrutture tali che l'investimento dei 2,2 miliardi si possa effettuare a Gela. Chiedono ancora che la piattaforma prezioso 2 venga costruita in toto a Gela e non appunta cugno così da dare ampio respiro alle maestranze metalmeccaniche dell'indotto. Chiedono ancora che il Mise e Eni rivedano il piano industriale di Gela e lo rafforzino perché l'esodo delle attività e dei dipendenti Eni farà scomparire nel futuro anche l'indotto, senza diretto non esiste indotto. Inoltre leggiamo ancora nel documento a firma di Didio e Caruso bisogna effettuare pressing sul Governo centrale affinché gli investimenti del patto per la Sicilia possano partire nell'immediato futuro, investimenti che potranno garantire un'ulteriore boccata di ossigeno al nostro territorio e allo stesso tempo dotarla di infrastrutture indispensabili, concludono i due consiglieri comunali Reset 4.0. Dobbiamo prendere atto che l'amministrazione non è chiara nella sua azione politica. Il vice sindaco Simone Siciliano nega che nell'accordo di programma sia prevista la costruzione di un rigassificatore. Lo scrivono in un comunicato ai componenti del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Tuttavia l'affermazione contrasta con l'asse quinta paragrafo stazione approvvigionamento GNL-ADP dove ancora oggi si prevede la creazione di una stazione di bunkeraggio del GNL a tutti gli effetti un rigassificatore. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle aveva ben letto questo punto e visiera fortemente opposto continua nei consiglieri comunali. Oggi a parole la Giunta afferma di non volere il rigassificatore ma nei documenti ufficiali continua a prevederne la costruzione. Non vi è chiarezza nei confronti della città. Questa amministrazione, leggiamo ancora, punta prevalentemente al trasporto su gomma nell'accordo di programma senza indicare sistemi concreti per gli assi ferroviari. Anche in questo caso il gruppo consigliare Movimento 5 Stelle era stato molto critico. Il vice sindaco parla oggi di apertura al sistema ferroviario ma non modifica il testo dell'accordo che invece va in una direzione opposta. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle aveva ben compreso l'accordo di programma e per questo lo aveva criticato formulando osservazioni scritte che oggi si confermano. Si deve rilevare come invece sia l'amministrazione a non avere idee chiare sul da farsi. Contraddice a parole i suoi stessi documenti, scrive cose che poi di fronte ai fatti politici e normativi di non poterle realizzare, smentisce a voce negando l'evidenza dei suoi incoerenti progetti politici. Questo incedere incerto e non coerente rischia di essere fatale per tutta la città, concludono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. Chiudiamo la pagina politica e apriamo quella invece della cronaca. È stato arrestato nella serata di ieri dalla polizia un pluripregiudicato gelese e particolare in questo servizio. È stato identificato e arrestato dalla polizia poche ore dopo un accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio in via Smecca, in pieno centro storico a Gela, un pluripregiudicato per violazione delle norme della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Manette e polsi di Giovanni Salucci, 65 anni, pluripregiudicato per reati di mafia, estorsione, contro il patrimonio, in materia di armi e altro, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Nel pomeriggio un 21enne era stato colpito alla mano destra con un fendente. La vittima è fuori pericolo grazie al tempestivo ricovero e la ferita è stata giudicata guaribile in otto giorni. Gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Gela, gli ordini del dirigente Francesco Marino, a seguito dell'aggressione avevano immediatamente concentrato l'attività investigativa finalizzata alla ricerca del responsabile con controlli serrati nei confronti di soggetti malavitosi ritenuti fondatamente coinvolti nell'evento criminoso. La perquisizione personale e locale nell'abitazione di Salucci ha consentito di ritrovare 10 coltelli di genere vietato, di cui uno nel comodino della camera da letto. Il pregiudicato dovrà rispondere di violazione delle norme della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e detenzione abusiva di armi. Da due mesi i dipendenti del comune di Gela non usufruiscono dei buoni pasto previsti dalle norme contrattuali. È la denuncia pervenuta al primo cittadino Domenico Messinese, il quale ha dichiarato ritengo grave questa inadempienza anche alla luce del fatto che ne sono venuta a conoscenza solo dopo un incontro con i sindacati. Soltanto adesso ho chiesto al segretario generale Piero Amorosia di condurre un'indagine interna nei confronti del settore risorse umane retto dal dirigente Simonetta Guzzardi per risalire alle cause e ai responsabili di questo disservizio. Parallelamente bisognerà elargire quanto previsto i dipendenti comunali. Per i lavoratori dell'ex reddito minimo di inserimento invece il sindaco di Gela per vie informali è venuta a conoscenza dell'innalzamento del tetto Isee da 5.800 euro a 10.000 euro. Messinese ha così chiesto al dirigente comunale del settore servizi sociali Maria Morinello di rivedere le posizioni delle domande acquisite e di predisporre una delibera di giunta per anticipare le somme da parte del comune per remunerare il lavoro svolto finora. Le rivendicazioni dei nostri agricoltori travalicano i confini locali devono trovare a Roma e Bruxelles le responsabilità di chi rappresenta il territorio nell'esclusivo interesse delle nostre comunità e fuori dalle logiche di appartenenza lo ha detto l'assessore del comune di Gela Fabrizio Morello in rappresentanza dell'amministrazione messinese ieri sera nel corso di una affollata assemblea del comparto agricolo alla Fiere Maia di Vittoria. L'incontro promosso dai sindaci della fascia trasformata segue il vertice della settimana scorsa al Ministero delle Politiche Agricole con il titolare del di Castero Maurizio Martina e altre autorità istituzionali a vari livelli. Due i temi centrali trattati nell'intervento dell'assessore moratoria dei debiti degli agricoltori in termini di indebitamento bancario previdenziale di Equitalia, riscossione Sicilia-SPA e il ruolo dell'Unione Europea che prima con gli ortaggi, poi con l'olio e domani con il vino determina un forte condizionamento negativo alle nostre produzioni agricole. Gli amministratori dei comuni della fascia trasformata hanno sottoscritto un documento in cui tornano a chiedere una serie di misure anticrisi. La battaglia adesso si candida a diventare tema unanime in varie regioni italiane che basano parte della loro economia sull'agricoltura. È prevista una grande manifestazione a Roma in programma per il prossimo mese. Nell'ottica di una semplificazione procedurale, AGEA già dall'anno scorso ha inserito nel regime di piccoli agricoltori tutti quei produttori agricoli che percepiscono un contributo inferiore a 1.250 euro. Questi produttori hanno l'obbligo di presentare la loro richiesta di contributo al proprio centro di assistenza agricola entro e non oltre il 29 febbraio prossimo. La città di Gela non si distingue certo per decoro urbano e verde pubblico. Innumerevoli volte abbiamo denunciato stati di degrado e trascuratezza. Angoli o interi quartieri che ripuliti e piantumati adeguatamente cambierebbero decisamente il volto della città. Perché il decoro, la pulizia e l'immagine di un luogo sono fondamentali per una serena e civile convivenza dei cittadini, ma soprattutto per accogliere visitatori. Ci chiediamo dove finisce la responsabilità della pubblica amministrazione e comincia quella dei singoli cittadini. Siamo sicuri che Gela sia in grado di mantenere in ordine quello che è già stato ripulito e sistemato? Queste domande se le è poste un comune cittadino che va oltre. Dopo un'attenta osservazione del degrado in cui verse il verde pubblico, quasi una chimera, ha deciso di lanciare un appello ai concittadini e di chiedere di sposare il suo progetto semplice ma efficace, di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze spontaneamente per ripulire e riqualificare le zone che necessitano interventi di verde pubblico più urgenti. Cominciare cioè un passo alla volta a cambiare le cose, non stando seduti a criticare ma collaborando fattivamente. Abbiamo incontrato questo cittadino di buona volontà perché riteniamo che la notizia sia anche questa, forse una goccia nell'oceano ma chissà se un movimento che nasce dal basso non possa avere sviluppi interessanti. Raffaele Di Gregorio, lei è un pensionato, un cittadino gelese per adozione perché è di origini ragusane ma si è innamorato di questa città perché ormai vive qui da tantissimi anni, ha lavorato qui, ha la famiglia qui e partendo dall'osservazione di questa città oggi vuole lanciare un appello ai nostri concittadini per realizzare qualcosa per il bene di questa città. Io voglio costituire un comitato di cittadini che la pensano come me, che sono disposti a svoltare pagina, a dare un'immagine di questa città degna di essere chiamata città e non l'etamaio perché è un l'etamaio sotto tutti gli aspetti. Quindi lei vorrebbe costituire un comitato di cittadini, un comitato spontaneo per volontariamente occupare le ore del vostro tempo libero per la pulizia e la ripiantumazione del verde pubblico? Sì, se osserviamo la città di Gela e vediamo bei balconi che sono costati migliaia di euro bellissimi ma che poi manca l'essenziale, cioè anche una pianta di geranio o di qualunque esso sia per dare intanto un'immagine diversa di questa città. Il verde, le piante sono benessere per il cittadino perché abbassano la produzione di anetride carbonica e producono ossigeno. Quello che respiriamo i cittadini, anche gli amministratori dovranno attenzionarci. Se qualche cittadino di buona volontà volesse sposare la sua causa la può contattare e così magari creare questo comitato? Posso dare il mio numero di telefono? 328 87 39 930 Ciò che mi auguro e credo che se lo debbano augurare tutti i gelesi e la città di Gela è che questo comitato si faccia perché ho avuto già tantissime adesioni e questo è l'obiettivo, è questo che ci prefiggiamo e io dico ai gelesi, veglia, diamo un'immagine diversa entro quest'anno, prima che finisce la primavera, di fare un concorso, il miglior balcone fiorito. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, il presidente dell'area sud provincia di Caltanissetta della Confesercenti Rocco Pardo, avendo ricevuto, leggiamo in una nota inviata alla stampa diversi reclami da parte dei propri associati derivanti dei disservizi creati dal distributore di energia elettrica nell'ultimo periodo, depositerà un esposto nei confronti di quest'ultimo al fine di tutelare i propri associati. Pardo invita il Consiglio Comunale a creare un apposito regolamento per tutte le società che eseguono lavori nel territorio gelese in modo da evitare disservizi alle attività commerciali. E' stata sottoscritta ieri dal sindaco di Gela la carta delle buone prassi con il club service Rotary International presieduta in città da Gualtiero Cataldo in occasione del 111esimo anno dalla fondazione. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto distrettuale denominato Amorevolmente insieme il Rotary per i siblings di cui è responsabile Ernesto Dagata. Grande attenzione rivolte ai fratelli e alle sorelle dei bambini con disabilità o malattie croniche inseriti in una situazione di considerevole stress all'interno della quale si trovano a vivere. Con l'aiuto dei comuni, delle scuole e delle associazioni, Rotary vuole sensibilizzare la società su questo tema. Il 27 febbraio prossimo alle 11 l'associazione di promozione sociale Ship Lab di Gela presenterà ad una rete di possibili partner il progetto Nice to Pitchu, una competizione di idee che mira ad incentivare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nel comprensorio di Gela. La presentazione si terrà presso Palazzo Mattina in corso Vittorio Emanuele 411. Durante l'incontro saranno approfondite alcune tematiche riguardanti l'innovazione e i benefici di sviluppo territoriale oltre ad una panoramica sui vantaggi fiscali derivanti dall'investimento su imprese innovative e start-up. L'evento rappresenta un'occasione imperdibile per gli aspiranti imprenditori di presentare la propria idea di business ad un pubblico di potenziali investitori interessati a sostenere progetti vincenti riguardanti le seguenti aree tematiche tecnologia, smart city, turismo sociale, agroalimentare e arte. Dal 25 febbraio al 17 marzo prossimi si terrà a Gela presse locali della chiesetta San Biagio e presso la Pinacoteca a Palazzo di Città il terzo corso di formazione del progetto Life più Leopoldia. Dal titolo la sostenibilità nel paesaggio agricolo del Golfo di Gela. Il corso di 50 ore ha un approccio multidisciplinare e pratico affrontando temi concreti per la gestione, progettazione e conduzione degli impianti serricoli e la promozione di un'agricoltura sostenibile. Interverranno docenti dell'Università degli Studi di Catania ed esperti del settore. La FIDAPA International di Gela promuove il progetto internazionale Dai luce alla pace a cura della past presidente Angela Incardona. Il progetto viene portato avanti a livello internazionale nei 98 paesi dei 5 continenti dove la FIDAPA è presente. Il progetto si propone di educare le nuove generazioni alla pace, alla comunicazione, al dialogo interculturale. Il progetto è rivolto ai ragazzi della terza media e vede coinvolti docenti di lettere ed educazione artistica. Dovranno essere prodotti un disegno che può essere individuale o collettivo con tecniche diverse, tra cui carboncino, pennarello, matita, in basso un pensiero di pace ispirato dal disegno. I disegni migliori, sei per ogni scuola, dovranno pervenire entro il 20 aprile prossimo e verranno valutati da una commissione competente. I tre disegni ritenuti più significativi verranno premiati nella giornata conclusiva che si terrà nell'ultima decade di maggio prossimo. Sono previsti premi in denaro. Sono le aperte le iscrizioni al primo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana 2016, organizzato dal Comitato di Gela, aperto a tutti coloro, che hanno il desiderio di spendere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri. Età minima 14 anni. Il corso si compone di sette moduli a carattere teorico-pratico per una durata complessiva di 18 ore, durante le quali verranno fornite le nozioni base sul primo soccorso, BLS, sulla diffusione del diritto internazionale umanitario, nel quale è racchiusa la storia della Croce Rossa, e sulla protezione civile. Le iscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte del 25 febbraio prossimo per informazioni 328-2477-645. Proseguono gli appuntamenti in occasione della 82esima stagione concertistica gelese. Domenica 28 febbraio prossimo alle 19 al Palazzo Pignatelli, concerto del trio Echi Armonici con Maria Provenzano al pianoforte, Angela D'Amato al flauto e Giuseppe Cumbo all'Oboe. L'iniziativa porta la firma dell'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Entrano in vigore oggi i nuovi orari della zona a traffico limitato lungo il corso Vittorio Emanuele a Gela. La circolazione veicolare nel tratto compreso tra Via Marconi e Via Trieste da lunedì al venerdì sarà interdetta ai mezzi non autorizzati. Dalle 19.30 alle 21.30, mentre sabato e domenica gli orari si prolungheranno dalle 16 alle 24. Il provvedimento sarà efficace fino al prossimo 5 maggio. Adesso parliamo di sport. C'è il calcio dopo la vittoria conseguita domenica scorsa nel derby con il Mussomeli. Il Gela cerca il Bissa anche in trasferta e Biancazzurri se la vedranno con il Mazzara. Sette finali per approdare in Serie D. Vediamo. La domenica prossima saranno sette le finali che dividono il Gela dalla conquista della Serie D. Sette finali da giocare con il coltello tra i denti perché niente e nessuno lascia punti per strada. E i Biancazzurri del tecnico Toto Brucculeri lo hanno capito. Non ci sono squadre materasso. A maggior ragione è quando si affronta il Gela. Sì, perché il Gela ha un blasone, una storia, rappresenta una città affamata di successi e che nel calcio ripone le proprie ambizioni. Un pallone che entra in rete fa felici tutti. Così come è accaduto domenica scorsa nella gara con il Mussomeli. Un risultato che non voleva schiodarsi dallo 0 a 0. Poi, ad una manciata di secondi dalla fine, ci ha pensato Mincica a far esplodere lo stadio con un tiro che ha fatto secco il bravissimo portiere ospite. Quel pallone che ha gonfiato la rete lo ha spinto il tifoso Biancazzurro. Ed è stata una gioia incontenibile. Un successo fortemente voluto dal team preseduto da Angelo Tuccio. Una vittoria che ha consentito alla truppa giolese di consolidare il primato in classifica nel girone A del campionato di eccellenza. Il Gela non è solo al comando, c'è anche il sorprendente Dattilo Noir, capace di ribaltare lo svantaggio nel big match con la San Cataldese e di vincere per 3 a 1. Gela e Dattilo in testa con 46 punti, poi c'è la San Cataldese a quota 43. Ma attenzione al Castelbuono, distante e soltanto 5 lunghezze dalla vetta e con uno di stacco di soli due punti proprio da Ninseni. E l'8 a 4? O se la giocheranno Gela e Dattilo? O la San Cataldese? O l'outsider Castelbuono? Sale il campo a dirlo. Intanto i biancazzurri non devono perdere più punti per strada. La concorrenza è agguerrita. Domenica prossima, intanto, banco di prova per Nassi e compagni. Si giocherà a Mazzara e l'impegno richiede massima attenzione. Nelle ultime trasferte di seguito il Gela ha ottenuto altrettanti pareggi. Adesso è giunto il momento di conquistare l'intera posta in palio. Perché, come dicevamo, le altre concorrenti al salto di categoria non mollano di un centimetro. Il prossimo turno di calendario prevede la trasferta del Daltino Loire in casa del Camerat. La San Cataldese giocherà davanti al pubblico di casa contro il Cus Palermo, mentre il Castelbuono renderà visita al Paceco. Dunque, un'altra giornata di campionato da vivere fino in fondo. Infine, la pagina dello spettacolo. Oggi e domani all'antidoto sarà portato in scena a servizio in camera di Emanuele Gianmusso. L'orario di inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30. Per informazioni 0933 82 27 07 oppure 338 714 32 93. Sabato 27 alle 21.15 e domenica 28 febbraio alle 17.15 al Teatro Comunale Eschilo. Fra Flavio Brazza Ventre, Guiaiele e Agostino Zumpo porteranno in scena alla bisbetica domata. Per informazioni 0933 911 892 oppure 345 58 80 580. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordiamo che notizie e servizi approfondimenti potrete trovarle anche sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Arrivederci alle prossime edizioni con gli aggiornamenti da Roma. Grazie per aver guardato il nostro canale.